a bello a tutti ragazzi qui technology e ben ritornati sul mio canale come vedete c'è un Charmander davanti a me e io ho uno Snivy e poi ci dovrebbe essere anche un Osho da qualche parte eccolo qui allora premessa perché almeno c'è un Charmander perché io sono figo no perché lui si era pagato e non gli faceva scegliere il pochino iniziale quindi abbiamo dovuto far spawnare un paio di Charmander e fargli ricattare uno con la Master Ball giusto per spicciarsi e lui ci avrà un Charmander a 15 e enorme soprattutto con la Master Ball invece noi avremo di Pokémon enormi con la Pock Ball comunque in realtà ragazzi perché sono figo e parto avvantaggiato quindi è quello comunque ragazzi benvenuti nella Pixel Moon ah vissi tu 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 vabbè ci portiamo avanti chissà che non troviamo un centro Pokémon cammino 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 boom centro Pokémon what the fuck io per portarmi un pochino avanti ho craftato questa crafting table ho preso un pochino di legna io vado subito subito a expare un po' i miei Pokémon e qui abbiamo cominciato a farmi gli gicocchi perché lì ci sono solamente le Pokémon andiamo avanti come mai la mappa va avanti e indietro come gli pare? quando tu entri in un posto lei ti zooma in quel posto dove si... quando riesci da quel posto lei si zooma da quel posto e ti farà le video a tutte uuuuuh dove siete? io sono tentativi da Pokémon però credo di essere crashato ah ottimo incominciam bene tu 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 comunque ragazzi è la... cos'è la quindicesima Pixel Moon che proviamo fra pochino ahahah quindicesima volta che proviamo a registrare una Pixel Moon allora la prima volta ci eravamo riusciti solo il problema è che io e Blaze eravamo troppo... ci stavano troppo divertendo che abbiamo portato talmente tanto avanti i Pokémon che Mino non riusciva più ad aggirsi eh vabbè ragazzi eh questi qua allenano i Pokémon erano già a livello 70 dopo... al secondo episodio e vabbè allora allora ti piacere vincere le fasce le bongi bongi bom 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 eh 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 che cavolo eh qui qualcuno citta vero? vero Tecno? Tecno... Tecno... Tecno è chiamato anche il cittone quindi chiamatelo hashtag cittone ahahahahahah ahahahah 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 vedi perchè ragazzi si arrabbia capito? quindi prendetelo in giro che si arrabbia ringhia ringhia egianنا turo duro du tu tú... tu 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 dai ancora non ci sono i carri sotto casa non li chiamiamo no... ci erano una prima opportunanmente io hi ho abbagliato io schiume i ho smesso perchè glielo il lamino perchè glielo lamino va comunque io direi subito di sparare un pochino la mia Snivy Allora io sto facendo dei piccoli bongicino ora è di scavare esatto infatti è ora di scavare una tana scava una tana nella tana scappa nella tana una tana scava una tana che se viene meno scappa ok adesso io farò il remix di questa cosa proprio bellissima la mappa che zoom una cosa spettacolare cioè noi stavamo cercando una mappa tranquilla io ho detto che cazzo di mappa è leggera conosci no proviamolo io mi sono incansato in un buco e qui e come si dice sono altri tolì ma la scrittano i anche in bianco e nero dove ce l'ha la scritta ok ok ho finalmente dove siamo io ho trovato un bel ferro comunque ragazzi chi sta seguendo il mio video mi sta vedendo scavare perché visto che io ho già il Charmander come avete sentito prima al 15 diciamo che faccio livellare un po' loro tanto io ho già livellato 10 livelli quindi io non ne ho bisogno in questo momento quindi prendiamo un po' di ferro noi abbiamo il Pokemon al 300 lui ha il Pokemon al 20 turuturutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut carboneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneone Sì, di vita, 39. Ma lo sai che è poco? Sì, abbastanza, perché il meu Snipe è al 9 e ce l'ha già 29. Io sono al 5 e sono al 21. Eh ragazzi, sarà difettoso. Allora, qua c'è un sterile che muore. Tranquillo, ma tanto poi quando vi troverete davanti a un Charizard gigantesco voglio vedere cosa fate. Ti mando in più Samorot gigante? Sì, sì, vabbè, vabbè. Io invece ti mando il mio Pokémon elettro. Sì, 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 sì. Io sento solo parlare, ma di fatti ancora niente. Sento parlare, faccio... Vieni con il Dori, Dori, vieni, 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 vieni. No, vieni, vieni. Cittone, cittone che non sei altro, cittone. Non ti conviene sfidarlo. Non ti conviene sfidarlo, ma te che non sei un po' come un tipo Erbalo, sai, vero? Allora, mentre loro sono... Non ti dire che c'ho Brastone, sei al 50. Sì, sì, va bene, va bene. Perché sento Charmander e ho detto, è il mio che esce? Dov'è? È un nidorino, che carino. Oh, un nidor al 3. Vieni qua. Cos'è? Ah, c'è qualcuno. Ah, ok, è uno di loro, diciamo, ma cos'è? Allora, ragazzi, visto che io sono uno psicopatico, voglio fare tutte le cose precise. Quindi, io direi di mettere alcune ceste qua, con i materiali che troviamo scavando. Cosa ha frustato, Asniperi? Frusta quel Magica. Sì, qualcuno qui, il masochista, sta frustando i Pokémon, poverini. Mischina, sei cattivo proprio. Proprio un citto. Ammazzato Magica, qualsiasi. Qui mi lagga un pochino perché c'è il computer di cacca. Ok, ragazzi, però io direi che alcuni materiali io inizio... Venite nel mio! Inizio... Ssss, zitto! Inizio a prendere un po' di cose che mi inizierò a fare una bellissima casina. Come una bellissima casina? Sì. Perché io posso. Come ci stai? Lui già ci abbandona. No, io mi faccio la casa accanto al centro Pokémon, ma insomma, mi è scemo io, ma... E, due, due, due... No, noi abbiamo lavorato tanto per farlo entrare. Eh, li abbiamo dovuti insegnare tutte, già ci abbandona. Tutututu... Io mi ha letto a piangere. Ma intanto che è che scava per gli altri chi prenderla e roba, eh? Eh? Ma perché non stanno scendendo le cosciotte? Vedi, vedi, qualcuno ha citato. Visto, ragazzi? Cosa dico io? Eh? San Mino non vuole inganni Forever Alone Ragazzi ma al 15 J Magical hanno imparato No al 15 impara un'azione Esattamente al 15 Poi al 20 si evolvono Infatti il Magical prima del 15 Non serve a una jippa 1,2,3,4,5 2,3,4 Allora qui mettiamo questo E iniziamo Eh perché tanto le palle ce le hai già da tu E quelle delle pokeball Botto di merda Vabbè ok andiamo avanti La serie va avanti lo stesso anche con queste battute La serie va avanti anche con queste battute La serie va avanti con queste battute La serie va avanti Ah ditemi se vi piace la serie in single player sulla pixel A me mi sta piacendo veramente tanto Oh c'è c'è un Ma oltre al cittore sei anche volgare Mamma mia Mamma mia come c'è Mamma mia brutto brutto vai via Che schifo Ora usiamo frustata sopra questo digli Ah pensavo usiamo frustata sopra sopra Mino Dicevo cos'è Dove sei? Dicevo dove cosa vuoi fare? Donate anche voi un euro Per porre fine alle frustate a Mino Che non sono ancora usciti Perché ogni volta si cambia Momento triste Cara pappa pappa Ma io non ho fatto un coglione due volte Perché mi avevo messo in mente Para pappa pappa Bravo 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 coglione Bravo Bravo Ok Ok Alcuno è al centro pop Sì sì Alcuno è al centro pop Vai tranquillo Vai tranquillo Vieni da me Ah noi ci siamo capito Ora noi ci siamo Ora esistiamo eh Ora esistiamo eh Bravo Bravo coglione Bravo A me basta due clip per chiudere il sacro Sì sì va bene Ora fa tanto il poverello Poi arriva qui Tipo si fa vedere Ho già 80 Pokémon catturati Ho solamente uno sniper Sì 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 Tutte 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 Mi spieghi meno perché stai facendo la farm di cibo Che non ci serva niente No No Ah perché vuole rimanere sempre in Peaceful No no Facciamo qualcosa un pochino più Dopo si mette in hardcore Mi dici cosa Cioè hai le palle Metti Sì 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 perché noi sappiamo Perché i Pokémon possono morire Capito Così almeno muoiono per sempre Vedete come fai quando un Pokémon morirà per sempre Voglio vedere Poverino Puoi dirti allora A dire al tuo charge Eh lo so Non gli da per sempre No comunque ragazzi Non voglio fare in Peaceful Ci spawna un creeper dietro Ci fa saltare in aria Perdiamo uno il Pokémon leggendario E due moriamo Ah uno Qua il creeper non possono spanare Sìì perché hai messo la definitiva E vieni qua maiale Che mira di merda che c'ho Vieni qua E vieni qua Io sto già morendo E vieni qua Maiale sbaglio anche tasti Vieni Stai fermo Stai fermo Stai fermo No oh 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 Ragazzi hanno aggiunto Ragazzi hanno aggiunto Bisogna mettergli la difficoltà Hanno aggiunto gli slugma Ok Ora mi va bene No No Eh no Eh no Maiale accidenti a lui Comunque ragazzi Comunque ragazzi se non lo sapete Io c'ho un Pokémon preferito Che per me è il boss Cioè tu dovrebbero averlo E loro due ancora non l'hanno indovinato Perché nelle Come avevo detto Nelle puntate precedenti Mai andate in onda Hanno provato a indovinarlo Ma non l'hanno indovinato Cioè hanno detto alcune Broly Eh No non è No non è vero Mai detto che era quello No Ma ve lo posso giurare Non è lui Anzi se andate a guardare la mia serie Su Pokémon giallo fulmini E lo scoprite Perché lo dico Lì lo dico già Nidorino 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 Ha indovinato Ha indovinato Si Voglio un po' questa Nino Posso riuscire Ah perché non è forte Nidoking che impara abisso No eh No 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 Basta fare individuo E poi abisso Muori Fine No non posso mettere in arco Ragazzi ma io c'ho una mira Che fa schifo Porcaccia la miseria Qualcuno può andare a due secondi al centroforma Solamente due secondi Meno per favore Tu che ti devo cercare un po' No no Fermo Vai tu Blaine Uh c'è un villaggio Ho trovato la vita ragazzi Ho trovato la vita Finalmente 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 Ok Tecno Visto che hai scelto te questo qua Spiegaci un po' A tutti noi Cosa c'è di nuovo Cioè quali Pokémon nuove ci sono Allora a memoria Ad evitare l'ho fatto io Perché Tecno Attualmente S'è un villaggio Vabbè qualcuno spieghi All'inizio All'inizio Non volevamo passarci Perché pensavamo Che era più boggata Però alla fine Abbiamo visto Che era uno migliore Perché avevano aggiunto Nuove cose Eccetera E avevano Finalmente Incrementati I Pokémon Che ci servivano a noi Del tipo Tyrannitar Non si può trovare Nella 1.7.10 Se volete Trovare Tyrannitar Dovete passare Alla Pixelmon 1.8 Quindi ragazzi Abbiamo presentato La serie Beh è tutto Abbiamo presentato La serie Ricordate di lasciare Un bel like Commentare E condividete il video Troverete tutti I video dei canali In descrizioni Il mio Quello di Mino Quello di Blaise E quindi Ci vediamo Alla prossima Ciao ciao ragazzi